Fino al 25 marzo al Museo Nazionale del Collezionismo Storico saranno esposti oggetti di vita quotidiana, armi e costumi della collezione Sergio Susani, universalmente riconosciuto come il massimo esperto europeo di storia degli indiani d'America. Queste tribù qui seguivano le mangie di bisonti nelle grandi pianure centrali americane, per cui dal Canada fino al Texas. Queste due grandi mangie di milioni di esemplari di bisonti erano seguite da queste popolazioni nomadi di cui vivevano, che ne traevano di tutto, dalla carne, la pelle, il vestiario, le decorazioni. Per cui tutte queste tribù, la Cotash e Yen Crow, sono quelli che fanno parte della fascia centrale americana. Venivano sterilizzate le bambine per non poter procreare, venivano portati i figli estirpati dalla tribù nei collegi e non avrebbero mai rivisto i parenti nelle riserve. Queste sono cose che non si sanno e purtroppo sono reali, come dal primo impatto tutte le tribù delle coste atlantiche sono state decimate portando delle coperte in scambio con il virus del vaiolo. Queste, ripeto, sono cose poco conosciute ma è stato un vero e proprio genocidio. Grazie. 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 Grazie.